Per il Consiglio regionale della Toscana la normativa sulla responsabilità penale dei sindaci va rivista. Per questo è stata approvata all'unanimità una mozione presentata dal Partito Democratico, primo firmatario il Vice Capogruppo Massimiliano Pescini, che impegna la Giunta regionale a sostenere in ogni sede utile l'appello promosso dal Presidente Dianci e sottoscritto da migliaia di primi cittadini, compresi molti sindaci toscani, di ogni schieramento politico viene specificato nel dispositivo a conferma della necessità di procedere a livello nazionale ad una revisione in tempi rapidi della normativa. Il Partito Democratico ha presentato una mozione nella quale si chiedono cose semplici, riprendendo l'appello che il Presidente dell'Anci nazionale De Caro ha fatto al Parlamento perché si modifichino alcune leggi che riguardano la responsabilità civile, penale e amministrativa dei sindaci e degli amministratori. Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino dove la sindaca Chiara Appendina è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017, ma di fatti come quello che riguardano la sindaca di un grande comune ce ne sono migliaia ogni anno in tutta Italia, proprio perché i sindaci sono in trincea, hanno responsabilità infinite e hanno talora anche attribuite delle competenze gestionali che se meglio precisate potrebbero sgravare, precisare meglio tra l'altro gli incarichi dentro la pubblica amministrazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo e sgravare gli amministratori da un fardello troppo pesante perché spesso a queste competenze formali non corrispondono poteri sostanziali e viceversa. C'è un'azione legislativa da fare, non per deresponsabilizzare nessuno, i sindaci non chiederebbero mai questo, non lo chiederebbero neanche i cittadini, ma per distinguere bene tra indirizzo politico amministrativo e gestione delle cose, sapendo che il sindaco rimane il responsabile legale dell'amministrazione ma che sulle grandi questioni gestionali e sulle piccole questioni gestionali un sindaco spesso oltre a non avere competenze non ha nemmeno la facoltà di poter incidere veramente. Pensiamo anche, l'abbiamo scritto nella mozione, a una revisione della normativa sull'abuso d'ufficio, 7.000 casi negli ultimi due anni che sono a disposizione statisticamente, 2016 e 2017. 7.000 casi, 100 condanne. Eppure questo comporta ovviamente per ciascun amministratore, per ciascun sindaco una problematica grande all'interno sia della sua azione amministrativa sia anche dei risvolti personali che ha sulla vita di ciascuno. Questo bisogna dirlo con forza, senza demagogia e senza populismo. Mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana abbia voluto riprendere questo appello, trasformarlo in alcune proposte al Parlamento. Non siamo entrati nei tecnicismi della materia, ci affidiamo al Parlamento ma chiediamo che la Giunta regionale appoggi questa richiesta in tutte le serie più opportune a partire dalla conferenza delle regioni e dalla conferenza Stato-Regione. È una questione di civiltà e faremo bene ai cittadini anche perché, e chiudo, i sindaci, in particolar modo nei comuni piccoli e medi, oggi hanno una tale livello di responsabilità che non si riesce quasi più a trovare persone che vogliano prendersi questo tipo di responsabilità. Perché la vita ti cambia da tanti punti di vista e spesso i rischi sono molto maggiori di quelli che sarebbe lecito aspettarsi da una figura pur così importante per tutti, una figura come quella di sindaco e architrave della Costituzione repubblicana insieme a quella dei comuni. Sicuramente oggi fare il sindaco è uno dei ruoli più complicati. Fare il sindaco espone tantissimi amministratori, anche giovani amministratori, a assumersi la responsabilità anche dei fatti per i quali, onestamente, una responsabilità diretta degli amministratori non è ascrivibile. Il messaggio deve essere chiaro. Il Governo deve farsi carico sotto questo aspetto di intervenire, modificando il testo unico degli enti locali, perché oggi lasciare esposti gli amministratori a responsabilità, ripeto, che sfuggono anche proprio dalla loro ambito di controllo, rischia poi di disincentivare anche l'impegno, soprattutto dei giovani, nell'attività amministrativa. Oggi non è facile fare politica, non è facile soprattutto assumersi le responsabilità che governare un territorio implica. Ed è necessario, secondo noi, che ci sia una proporzione rispetto all'impegno che viene chiesto sui sindaci, ai sindaci quotidianamente sul territorio nell'affrontare le emergenze, rispetto a quello che sono le tutele che oggi li lasciano troppo esposti. Questo è un messaggio che vogliamo mandare appunto al Governo centrale, perché gli enti locali ritornino ad essere al primo posto nella politica nazionale. sindaci, amministratori, debbono essere considerati in un'ottica di riguardo. Non si può pensare ai comuni solo per scaricare sui sindaci responsabilità, ma devono essere messi nella condizione di lavorare e di avere anche le risorse necessarie per investire sui territori. È troppo facile a volte lasciare soli chi amministra e poi appunto lasciarli poi in balia di quelli che sono eventi e responsabilità che, ripetiamo, talvolta non sono loro ascrivibili. Quindi occorre mettere mano immediatamente al testo unico degli enti locali. Abbiamo discusso e apprezzato una mozione presentata dalla maggioranza che chiede al Governo di intervenire normativamente per, in qualche modo, ridurre le ipotesi che oggi sono eccessive dal punto di vista delle fatti specie incriminatrici sulla responsabilità penale dei sindaci. Nel nostro Paese, dalle leggi Bassanini in poi, la responsabilità per gli atti viene sempre a carico dei dirigenti, ma rimane il profilo di responsabilità a carico dei sindaci e dei Presidenti della provincia perché sono considerati capi dell'amministrazione. Il caso è scoppiato per le vicende note del Sindaco Appendino di Torino, la quale è stata condannata per i fatti avvenuti in una piazza per i festeggiamenti di una squadra sportiva, ci sembra francamente un eccesso, considerato appunto non solo la differenziazione tra ruolo politico e ruolo tecnico-dirigenziale, ma a maggior ragione questo comporta due contraddizioni. Una a livello delle città più grandi perché ogni sindaco ha migliaia di dipendenti e decine e centinaia di funzionari e dirigenti può anche non conoscere e quindi non è obbligato un sindaco a conoscere tutti i propri dipendenti, ma soprattutto tutte le regole che devono essere seguite. Nei piccoli e piccolissimi comuni questa situazione sta generando un problema serio perché non ci sono più persone che si prendono la responsabilità di candidarsi e di guidare le comunità, perché i rischi sono eccessivi rispetto naturalmente al pur bello impegno che tutti noi svolgiamo facendo politica. Quindi è un problema serio, un problema che abbiamo posto votando questa mozione al Governo. Speriamo che arrivino risposte puntuali perché in alcuni casi le indagini, sia per l'abuso d'ufficio ma anche per l'omissione di atti d'ufficio in casi particolari, poi alla fine cominciano ma si risolvono solo dopo molti anni con la soluzione. Approvata maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana, ma col voto di astensione delle opposizioni, una legge sulla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, che va a modificare la legge regionale 2598. Le modifiche introdotte nascono da due direttive europee, la numero 851 e 852 del 2018, come ha spiegato la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente Lucia De Robertis del PD, e riguardano modalità, tempi e contenuti della comunicazione che le utenze non domestiche devono al gestore pubblico nel caso in cui decidano di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio. Il conferimento può avvenire previa attestazione rilasciata dal soggetto che svolge l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Oggi con la modifica della Pdl32 abbiamo di fatto modificato la normativa della gestione dei rifiuti dando la possibilità alle aziende, sì perché sono utenze non domestiche, di scegliere un gestore al quale conferire rifiuti per il riciclo e il riuso diverso dal gestore pubblico. Questo lo abbiamo fatto perché c'è un decreto legge che ha recepito due direttive europee, quindi la Regione Toscana è stata, come dire, costretta a recepire e a modificare la propria normazione, anche perché nel decreto era specificato che fosse in vigore dal 2021. La possibilità quindi per le aziende di dire io conferisco i rifiuti della mia azienda, rifiuti solidi urbani della mia azienda, non al gestore pubblico, ma si tratta di rifiuti che vanno a riciclo e riuso e nel momento in cui viene scelto un'azienda nel libero mercato, ci sono aziende che fanno queste, soprattutto in determinati settori industriali, chiaramente si deve dimostrare il ciclo che viene fatto dal rifiuto stesso. Questa era una normativa europea del 2018 che è stata recepita nel 2020 dal Governo italiano con la loro Ministra Costa e quindi la Regione Toscana ha modificato la propria normazione per dar possibilità anche alle aziende toscane di avere questa opportunità. Sì, si tratta dell'ennesimo adempimento che deriva dall'applicazione della normativa comunitaria, scaricato però sugli uffici ambienti dei comuni, perché di fatto le aziende che sceglieranno di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti da utenze non domestiche da operatori privati dovranno comunicarlo attraverso una procedura un po' farraginosa ai comuni che dovranno quindi tenere un registro e verificare gli adempimenti connessi a questo nuovo sistema di smaltimento che potrà cioè essere effettuato anche tramite gestori privati e non soltanto attraverso i gestori ordinariamente scelti attraverso le procedure pubbliche. Su questo ci siamo astenuti raccomandando naturalmente che la Regione affronti quanto prima possibile il tema più complesso dello smaltimento dei rifiuti, perché la Regione si trova in una situazione di estrema difficoltà sia per gli impianti che per le troppe discariche che ci sono sul nostro territorio e naturalmente che aiuti i comuni anche dal punto di vista della Tari, perché la Tari sta continuando a crescere gravando sulle famiglie e sulle imprese nonostante gli impianti non siano ancora stati realizzati. È stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana la proposta di delibera che modifica il piano ambientale ed energetico regionale per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica. Contestualmente è stata revocata la deliberazione del 7 luglio 2020. La Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, Lucia De Robertis del PD, ha spiegato che si tratta di una nuova adozione dello stesso piano presentato nella precedente legislatura, ad eccezione della relazione ambientale e sintesi non tecnica, che erano state pubblicate incomplete, motivo della nuova adozione, cui seguiranno le osservazioni che verranno esaminate insieme a quelle già pervenute. La proposta di modifica al PAIR racchiude uno specifico allegato che andrà a individuare le aree non idonee, costituendo una sorta di inquadramento delle vincolistiche a tutela del paesaggio, dell'ambiente e della produzione agricola. Di fatto abbiamo riadottato lo stesso piano del 2020, è stato necessario farlo perché nel momento il PAIR era stato approvato dopo un lungo dibattito anche in Consiglio regionale, era stato adottato nel luglio 2020. Nel momento in cui era stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Toscana c'era stato un errore materiale di due allegati che sono stati erroneamente, si è sbagliato proprio l'allegato in pubblicazione, quindi siamo stati, come dire, tra virgolette costretti a riadottarlo di nuovo, però abbiamo fatte salve le osservazioni che nel frattempo sono state fatte da cittadini, imprese o soggetti interessati. Naturalmente saranno dedotte, controdedotte, però non riparte per quello il termine, cioè non abbiamo riadottato azzerando tutte le osservazioni in estere, ma verranno fatte salve. Questa è una preoccupazione che avevamo avuto come quarta commissione, che abbiamo alla Giunta chiesto di specificare, infatti nell'atto che è adottato è specificato questo. Sì, sugli impianti per la geotermia c'è stato un errore da parte degli uffici, è stato pubblicato il PAIR, il piano dell'ambiente energetico regionale, con degli allegati che tecnicamente non erano definitivi, il che ha costretto a revocare quella delibera e a riassumere oggi l'adozione di quella parte di piano che peraltro aveva già avuto molte osservazioni da parte dei comuni, perché i comuni sono molto sensibili al tema, perché naturalmente si tratta di impianti certamente importanti, certamente legati a una forma di energia che non inquina ma che ha un impatto sul territorio e quindi attraverso anche la discussione in commissione abbiamo chiesto che l'amministrazione regionale tenga comunque conto delle osservazioni già pervenute e che soprattutto, siccome si riapre il termine per le osservazioni, coinvolga i comuni in maniera attiva, non limitandosi soltanto alla pubblicazione sul bollettino ufficiale, ma faccia sapere anche ai cittadini, oltre che ai comuni, che si riapre la discussione sui siti non idonei per gli impianti di geotermia. Tra l'altro, e concludo, c'è stata e c'è una discussione molto forte nel Lazio, in Umbria, che ha portato anche a contenziosi rilevanti, perché, ripeto, si tratta di impianti che comunque hanno un impatto sul territorio e che nel nostro caso, attraverso l'individuazione delle aree dei siti non idonei, in realtà però c'è una piccola porticina lasciata aperta, perché questo non esclude che piccoli impianti, quelli che vengono considerati piccoli impianti, cioè al di sotto di una certa potenza, possano comunque essere realizzati e quindi per noi la partecipazione dei cittadini e dei comuni è importante e su questo naturalmente ci siamo raccomandati. La geotermia è sicuramente una risorsa rinnovabile, ma non è lo stesso in tutto lo stivale e non è lo stesso anche qui in Toscana, anche a pochi chilometri di distanza. Tutti conosciamo la situazione molto complessa della geotermia, così come è stata sviluppata e come si vuole sviluppare nella miata, che è fonte di rischi per la salute ambientale e delle persone, come rilevano i comitati. Ecco perché secondo noi è necessaria una geotermia differente per la miata. Questo naturalmente non significa che l'atto che è stato presentato dall'allora ministro Costa non sia valido, ma è necessario andare con un approccio sartoriale sui territori. Laddove un certo tipo di geotermia, per esempio quella media, entalpia, non è ritenuta idonea perché presenta dei rischi, lì non deve essere applicata e quello ha ruolo anche della regione toscana, che si è finora rifiutata di fare.